Però c'è da agganciarci a qualcos'altro che io vado sviluppando, ormai sono già tanti, ma tanti, tanti anni, che realizzo progetti di percorsi di cittadinanza attiva. Questo cosa significa? Che tu digitalmente diventi un cittadino attivo, vale a dire che non solo riconosci le fake news e quindi cominci ad utilizzare la tua capacità razionale nel comprendere ciò che è vero da ciò che è falso e quindi nel comprendere come avviene la comunicazione. Ma inizi anche a capire che attraverso questa strumentazione tu puoi far valere anche i tuoi diritti. E se ci vogliamo proprio riallacciare a un qualcosa che io ritengo fondamentale, inserire nei percorsi di educazione civica attraverso l'era del digitale, e questo ormai lo sto già dicendo da un bel po', io ho già iniziato a farlo e ho iniziato a farlo, la bellezza di un annetto fa, grazie ad un'associazione che si dà molto da fare sul territorio, che è l'associazione Milano Positiva, il cui presidente Giovanni Zeiss, una persona attenta a tutto ciò che può essere il sociale. Ecco, e ho iniziato con dei progetti che ho realizzato proprio per questa associazione, uno di questi progetti è civica educazione per futuri cittadini attivi. Questo che cosa comportava? L'utilizzo quindi dei social, ok, soprattutto in un periodo quale quello del lockdown, per far partecipare personaggi, quindi che potevano essere personaggi del mondo del giornalismo, quindi personaggi anche dell'associazionismo e via discorrendo, nel toccare alcune tematiche e parlare proprio con i minori. Perché? Perché non è affatto vero che il minore sia attirato da altro e quindi abbia uno sguardo sfuggente. E quando non si sente chiamato in causa, non gli si dà quella responsabilità, quel valore che può assentarsi. Se si assenta, ripeto nuovamente, subentrano altre cose. La cosa peggiore è l'angoscia, perché l'angoscia, l'angoscia diciamo viene dopo il vuoto motivazionale, no? E che è la fase che poi precede il fatto di dire, ma chi me la fa fare? Tanto. La vita è una, mi diverto, me la prendo come viene, faccio quello che voglio, ok? Danneggiando se stessi e anche gli altri. Perché danneggiando anche se stessi e anche gli altri? Perché in ciascun essere umano, o vuoi o non vuoi, è come avere, diciamo, due lune, no? Chiamiamole così. C'è un vecchio proverbo indiano che dice i due lupi, lupo buono e lupo cattivo. In realtà abbiamo una parte noi che ci sprona a crescere, a migliorare, quindi ad emergere, e lì devi anche valutare come emergi per evitare che, insomma, si sviluppano altre, insomma, situazioni. Inutile dirlo. E poi c'è quell'autodistruttiva. È l'autodistruttiva che non dobbiamo per nessun motivo far emergere. E qui siamo noi adulti come comunità educante. Quindi ritorno nuovamente al tuo concetto, comunità educante. Nessuno si tiri fuori. Nessuno. Perché occorre responsabilità e amore per la vita.